San Pietro Mussolino. Era diventato un vero e proprio distributore di carburanti abusivo, il garage e il piazzale antistante è un'abitazione privata collocata nella parte alta della Valle del Chiampo. L'attività illecita e pericolosa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, che ha denunciato due persone per la commercializzazione di carburante in evasione d'imposta. 3.000 litri di gasolio per autotrazione sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Arzignano, che avevano avviato le indagini in zona dopo aver notato incongruenze nella banca dati nel settore delle accise. Le ricerche hanno portato gli uomini delle fiamme gialle a controllare alcune zone della Valle del Lagno e del Chiampo. La presenza di numerosi fusti metallici e cisterne di plastica per lo stoccaggio di carburante nel cortile esterno di questo edificio avevano insospettito i finanzieri che hanno voluto vederci chiaro. Hanno controllato il movimento di mezzi e uomini e alla fine hanno fatto scattare due diverse perquisizioni. Oltre ai contenitori nel cortile sono state rinvenute e sequestrate altre grosse tanniche piene di gasolio nel garage dell'abitazione, con beccucci di erogazione del carburante. È stata così posta fine l'illegita attività commerciale, esercitata pericolosamente perché incurante del minimo rispetto delle norme di sicurezza e antincendio.